Mary Jane ASMR Ciao tesoro, bentornata credo di sapere perché sei qui scommettiamo? sei tornata perché ti sono piaciute le coccole che ti ho fatto qualche settimana fa ne ero certo più che certo beh oggi sai è proprio giornata di cure sì mi sono già presa cura di un'altra mia amica oggi come stai? comunque infatti ti trovo raggiante tra l'altro lascia che te lo dica pare tu sia diventata ancora più bella rispetto all'ultima volta che ci siamo viste sbaglio novità in amore novità in amore l'amore ci rende sempre più raggianti sono contenta per te se sei piccola cosa vorresti? un massaggino? cosa vorresti? mi prende un po' cura del tuisa? sì del tuisa ok allora guarda prima prima ho usato questi dischetti con crema lozione ho tutto portato a timore per un'altra mia amica ce li avevo proprio qui davanti ti sei trovata proprio a pennello che li lasciamo? con i suoni che sentiremo durante questo trattamento ci rilasseremo insieme, esatto questi dischetti sul viso sono veramente morbidissimi io li trovo ottimi, li trovo ottimi per la detorsione del mio viso toccali, sentili ecco qua sul viso morbidissimi vedi allora piccola ti dico quello che andremo a fare inizio a struccarti anche se non hai trucco ok? non è il trucco che vuoi che facciamo, sì ma infatti non ti preoccupare ti passerò questa lozione che praticamente pulisce un po' il viso, ok? lo pulisci in profondità e ovviamente toglie anche residui di trucco qualora ci sono chiaramente le andremo a rimuovere scusami andrò a passare questa lozione con questi dischetti ma come avrai notato dentro c'è del liquido azzurro e trasparente questo va agitata questa bottiglia per diluire i due liquidi all'interno c'è una base oleosa e poi non so se è del tonico non ci ha fiordaliso più qui eh del libro chè buonissima senti che buon odore buonissimo odore mi pare di averlo già utilizzato su di te o spalle non ricordo comunque questi sono i prodotti che uso io e mi trovo benissimo ok iniziamo con un po' di detorsione allora iniziamo subito c'è venuto a fare visita a luna c'è venuto a fare visita a luna la mia gatta però non sia un problema allora inizio è all'inizio è qui ok prima via unico è freschissimo, lo so, io lo adoro, lo amo ok, andro porico non apiccica, devo dire, veramente buono, si con i dischetti abbiamo finito, adesso andiamo a mettere un siero idratante idratante ad effetto immediato tra l'altro e ti lascia immediatamente una bella sensazione sulla pelle so, come? e vedere i miei fatti sento poi gli organi del vicinato questo siero lo metto sempre prima della crema sì esattamente, va messo prima della crema è una base per la crema, sì andiamo un altro po', così non fate per terra e inizio a massaggiare per bene prima sulla fronte c'è traffico ora fuori? c'era traffico? già messo molto no? già hai messo molto per venire fin qua no? ok tutto il viso ok lo so ci vuole sempre si deve sempre trovare un po' di tempo da dedicare a noi stessi è vero ci resta sempre così poco tempo per pensare a noi perché la giornata vola via in freddo hai ragione le mie vani sono delicate mi fa piacere ah sì mi piacciono anche a me i massaggi sul viso non abbiamo finito e dopo la lezione ti vado a mettere una crema ok sul viso anche super idratante già ok vedi questo siero è ad asciugatura rapida non unge non appiccica assolutamente infatti sì io li odio quei sieri appiccicosi che bella pelle luminosa l'ultimo step una crema che sa di latte all'aspetto del latte io La agitiamo bene, per bene e abbondiamo perché andiamo a metterla sul col, sulla zona dei coltà, ok? Mi infratto totalmente le mani, vedrai che poi il risultato non sarà molto, non ti spaventare? Ecco, ecco questo col col, sul col, sul metto, sul metto, ok? ecco adesso ho anche lo scollo av visto bene, fatto benissimo perché stiamo mettendo la crema ok ok saliamo ok accidenti questa è super profumata troppo buona un profumo gradevolissimo ok mi sa che mi sono dato anche un po' di crema mi sa che mi sono dato anche un po' di crema nei capelli pazienza va di nuovo qui sul collo 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 ok Ok, sono decolta, sono decolta, sono decolta, sono decolta, ok, 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 come ti senti adesso? Va meglio, sono contenta, allora tesoro ti aspetto la prossima volta se vuoi, ok, ciao piccola, ciao ciao, ci rivediamo, ciao